Allora, ragazzi, allora vi starete chiedendo perché ci sono io? Allora, il mio padrone, perché non fa più video? È molto semplice, non riesce perché ha troppi impegni. E allora, cosa succede adesso? Allora, lui sta preparando un mondo in cui è tutta la roba givata però è sempre notte e si dormi e è sempre notte dopo. Quindi non si può dormire. Allora, allora, ragazzi, perché non sto facendo più video? Ve l'ha spiegato la mia gatta prima. Allora, penso che farò un altro video di questi giorni. Allora, la rogacraft c'è... Il mio fratello mi ha buttato via la roba. Mi ha buttato via un'ascia che sarebbe servito a tutto. E niente. Ho comprato Far Cry 3. E in uno di questi giorni farò un video. Ciao ragazzi. Scusate se non faccio più video, però adesso continuerò a portarli. Ciao ragazzi. Saluta. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie a tutti.